Si dice dare una mano ai piazzaroli, metti i quadrati di vela e la barca non si inchina. Quando ci vedo questa barca si inchina puoi andare con l'acqua praticamente a quel porco di allugogno. Non capisci che viaggiare così è... Ti prendi perché dici che bello, però è la barca sbandata, ma è pericoloso o relativo, puoi spaccare qualcosa. Questa barca qui è una barca da mare, però è meglio per meccare la barca di vela, perché vai più forte comunque. Perché la barca va forte quando si inchina, come adesso, ma quando la barca è più inchinata, praticamente il vento si vuole fuori dalle mele. Praticamente sembra andare fuori dalle mele. Praticamente il vento viene sempre fuori dalle mele. Per mare c'è vento forte, mare grosso, riduce le mele, ma perché c'è un piccolo pazzoletto di vela che si possa portare via. Grazie.